Io mi chiamo Elisabetta Tola, sono una giornalista scientifica, so che rappresento una categoria che quando si parla di temi complessi come quelli di cui stiamo parlando oggi si comporta spesso molto male, quindi diciamo che parto sicuramente un po' svantaggiata in questo contesto perché sappiamo che i media in generale hanno un'enorme responsabilità anche relativamente a quello che è il linguaggio, la costruzione di immaginario che poi viene naturalmente amplificato all'interno della società, quindi i media sono uno dei protagonisti della costruzione di un modo di parlare di migrazioni, di parlare di diritti, di parlare di persone che non sempre insomma riesce ad avere veramente, non riesce veramente a rispondere a questa chiamata del ruolo sociale che dovrebbe avere. Io sono una giornalista scientifica, quindi ho una formazione scientifica da molti anni, collaboro anche con la fondazione Golinelli, quello è il mio account Twitter, sono una giornalista radiofonica, sono una conduttrice di Radio 3, Radio 3 Scienza in particolare, però mi occupo moltissimo di web e da un anno a questa parte sono anche formatrice per Google, proprio per i giornalisti italiani, quindi faccio diciamo corsi di formazione un po' dappertutto per abituare i giornalisti italiani a utilizzare sempre di più gli strumenti digitali. Se siete fruitori, diciamo così, dei prodotti giornalistici saprete che il giornalismo italiano non è particolarmente digitale, tende ad essere ancora molto legato a dei canoni classici. Quello che vedremo oggi è un mix di esempi di prodotti giornalistici italiani e non, che invece fanno un uso abbastanza sostanzioso, insomma, di strumenti digitali proprio per raccontare il tema delle migrazioni in modi diversi. Non sto a farvi una lezione su come si costruisce un prodotto giornalistico perché non è il vostro interesse, però quello che invece mi sembra interessante, lo metto qui come spunto e poi magari lo possiamo discutere insieme è capire alcune dinamiche della costruzione di un prodotto giornalistico perché anche voi nel vostro lavoro in realtà ci sono degli elementi in comune, mettiamola così, cioè il lavoro giornalistico ha due, se vogliamo, modalità che sono compresenti. Uno è la modalità della risposta all'emergenza, quindi io vengo chiamata o succede qualcosa, devo andare in onda e mezz'ora prima smontiamo la puntata prevista perché c'è stato un fatto che ha cambiato completamente le cose e che quindi sull'emergenza deve costruire un nuovo modo di raccontare e di riflettere su quello che sta avvenendo. È inutile dire insomma che negli ultimi anni il tema migrazione è spessissimo al centro, perfino di programmi scientifici come il mio perché cerchiamo di analizzarli appunto dal punto di vista dei dati, delle problematiche sanitarie, delle problematiche ambientali, dell'impatto per esempio che tra cambiamenti climatici, questioni agroambientali e migrazioni, l'intervento successivo sarà anche su questo. Quindi diciamo c'è il tentativo di, per quanto riguarda il lavoro che facciamo noi in radio, per esempio di trovare un taglio, un angolo più scientifico è un tema che evidentemente è ampiamente sfaccettato. C'è questo lavoro di emergenza, giusto perché sia chiaro a volte l'errore nell'emergenza avviene anche perché se si lavora e si deve produrre un'intera trasmissione di mezz'ora in mezz'ora, cioè preparando la mezz'ora prima, o un articolo in un'ora, voi capite che da quel punto di vista scappa, scappa il dato sbagliato, scappa a volte anche la capacità magari di inquadrare il problema in maniera corretta. L'altro però modo di lavorare, ed è quello in cui io mi riconosco molto di più ma perché ho la fortuna di lavorare da freelance e quindi non lavoro in una redazione, non ho le tempistiche della redazione, è invece quello dell'approfondimento, quindi dei lavori che diciamo hanno un più ampio respiro, ci vogliono settimane o mesi per arrivare alla messa in onda o alla pubblicazione e richiedono un tipo di lavoro di ricerca che in questo senso non è molto diverso da quello che fate voi perché è proprio una parte di studio, una parte di ricerca, la costruzione diciamo di una narrazione che però si basa ovviamente sui fatti, dati e su tutti quelli che sono gli elementi acquisiti e poi però per quanto riguarda noi invece la resa con strumenti che devono avere degli elementi, adesso uso una parola orribile, molto abusata che è quella appunto di narrazione, purtroppo diciamo il giornalismo è questo, è raccontare delle storie, noi vorremmo chi ama il giornalismo come me vorremmo che le storie fossero basate su dati e fatti, non voglio dire oggettivi ma insomma perlomeno raccolti con una certa cura e vorremmo che queste narrazioni quindi della narrazione avessero soltanto la forma, cioè la capacità di raccontare questa cosa coinvolgendo il pubblico arrivando ai vari pubblici che cerchiamo di raggiungere in un modo che li metta in comunicazione effettivamente con noi ma soprattutto con i temi che affrontiamo i protagonisti delle nostre storie. In questo, quindi non storie nel senso di false storie, non storie inventate anche se spesso si cade in questo tipo di errore e soprattutto, questa è la cosa forse quando faccio formazione ai colleghi giornalisti continuo a sottolineare, soprattutto il giornalista dovrebbe avere la capacità di distinguere i dati e i fatti dal racconto inquadrato in chiavi politiche, in chiavi propagandistiche, cioè informato diciamo da precise volontà che non sono necessariamente corrispondenti alla realtà. Ora ribadisco il giornalismo nella sua etica, il tentativo di raccontare la verità, la verità adesso non entro su un piano, è molto complessa però è anche vero che molto spesso il lavoro si riduce al fatto che prendiamo un comunicato stampa, lo traduciamo in un articolo e non c'è alcuna verifica dei fatti. Allora per me è molto importante raccontarvi oggi, farvi vedere alcuni esempi, tanto poi ve li lascerò, non so se riusciamo a vedere tutta la carrellata ma vi faccio vedere in ordine diciamo, ne ho selezionate una serie anche di rilievo, lavori che possono anche essere utilizzati in classe per esempio per discutere con i ragazzi, qui sono lavori che non vengono fruiti in mezz'ora. Questo qui, The Waypoint, adesso ve lo faccio vedere, è un reportage molto bello che ha fatto il Washington Post, ci ha lavorato un team di tre giornalisti, io spesso tendo a dire ai colleghi che noi siamo pigri in Italia perché tendiamo a dire che siccome Washington Post, New York Times, Guardian hanno grandi team quindi riescono a fare degli enormi lavori, noi non abbiamo queste risorse e rinunciamo in partenza. In questo caso i giornalisti sono stati molto capaci di utilizzare materiali già disponibili, poi hanno anche prodotto loro delle cose, ma questo è un visual journey come vedete attraverso l'ESBOS, cioè l'anno scorso durante l'estate questi giornalisti si sono recati a l'ESBOS e hanno utilizzato una serie di materiali per raccontare proprio un pezzo del viaggio che alcuni migranti stavano facendo attraverso la Turchia, poi il tentativo di entrare in Grecia e ovviamente di proseguire in Europa. Il suono che sentite è il suono registrato, il suono del mare, già questo proprio da un punto di vista stilistico rende, porta subito il pubblico dentro il, vedete lo dicono anche, è usato in tutta la storia, quindi l'ideale qui naturalmente è utilizzare un paio di cuffie e poi inizia la storia vera e propria. Qui c'è un uso di diversi tipi di video, questo video per esempio è un video fatto con droni o con immagini dall'alto, ma è stato acquisito dall'UNHCR, quindi non è un video fatto dai giornalisti, ma è un video diciamo ufficiale che è stato consegnato ai giornalisti appunto dalle Nazioni Unite. Queste per esempio sono immagini ricavate da Google Drive, quindi qui i giornalisti non hanno fatto altro che utilizzare la visualizzazione su Google per far vedere, vedete anche addirittura appunto si può ricavare, usando Google Drive si possono registrare dei video mentre li stiamo vedendo online e quindi non hanno fatto altro che consentire la possibilità di vedere esattamente vedete dove si sta svolgendo la storia. Questo in quello che vi ho fatto vedere finora è tutto materiale che non è stato prodotto dai giornalisti utilizzando mezzi incredibili, l'aereo o il noleggio dell'elicottero, questi sono materiali già disponibili assemblati in una forma di narrazione che però è molto efficace, vedete che qui dall'immagine digitale di Google Drive siamo tornati sulla spiaggia, questo è di nuovo un'immagine presa o con un drone o con un mini aereo e da qui la storia continua. Il lavoro è molto più articolato, vi faccio solo vedere le prime parti, ecco ci sono dei momenti in cui i giornalisti scelgono di dare la videocamera o la fotocamera in mano ai migranti stessi oppure acquisiscono dai migranti e il suono, lo tolgo magari così, non ci disturba, acquisiscono dai migranti stessi i video fatti con i telefonini. Quindi qui la capacità è tutta di tipo, come dire, è l'organizzazione del lavoro, non è tanto il fatto di dire devo passare mesi a raccogliere materiale, è sedersi a tavolino, io poi ho avuto la fortuna di parlare con l'editor che ha seguito questo lavoro e lei ci ha presentato una tavola come se fosse un powerpoint. Cioè loro hanno fatto proprio una costruzione di storie per step dicendo partiamo da qui, quanto materiale abbiamo? Perché ovviamente il materiale raccolto è comunque più di quello che poi alla fine ha senso mettere in un prodotto che deve essere comunque pubblicato su un giornale. Se io voglio vederlo tutto, questo vedrete, se avrete voglia di esplorarlo non lo vedo in dieci minuti, anche perché ci sono interviste più o meno lunghe, in vari punti posso sempre andare avanti, quindi se a un certo punto mi ascolto questa intervista la prima volta, magari la volta dopo salto e vado avanti ed è molto complesso il lavoro fatto, però la scelta a un certo punto di come andare a costruire questo pezzo è stata fatta a tavolino esattamente come si programma una presentazione in powerpoint, cioè o come si costruisce una storia a step, una scaletta ben precisa, cosa voglio raccontare, da dove parte, qual è l'incipit, qual è lo sviluppo della storia, dove voglio arrivare e via dicendo. eliminando in continuazione, perché lei ci raccontava appunto che si erano dati anche un termine numerico, adesso in questo i medi anglosassoni sono sempre molto precisi, cioè alla fine una storia così non deve essere lunga più di, adesso non mi ricordo, 48 videate o quello che è, non deve avere più di un certo numero, perché se facciamo 150 step, perdiamo il lettore a un certo punto e non arriverà mai alla fine, quindi noi vogliamo che arrivi più avanti possibile. Ci sono naturalmente tutta una serie di storie, di pezzi, ecco, mi fa piacere che si veda in sottofondo anche la parte in cui, sì sì sì, questo è pubblicato, The Waypoint è sul Washington Post, tutti quelli che vediamo sono pubblicati, quindi sono lavori che potete tranquillamente visionare con calma, insomma adesso vi faccio appunto una carrellata, ma sono tutte cose che richiedono un po' di tempo per essere utilizzate. Ecco, mi fermo un attimo su questa storia proprio, quella precedente, vediamo. Qui vedete i bambini, le persone e poi l'immagine che vediamo prima, l'intervista ai due signori. Allora, qual è la scelta qui? Noi vediamo delle persone in un momento veramente tragico, perché chiaramente, insomma, sono durante un viaggio, non certamente al meglio, diciamo, delle proprie condizioni, eppure non c'è mai un atteggiamento di tipo pietistico, di tipo commiserativo, anzi emerge sempre la storia di queste persone per quello che sono. Io penso che chiunque, no, di noi se deve fare un viaggio a piedi, in barca, di notte, in gommone, portandosi dietro quello che può su uno zainetto, non è che al terzo giorno, quarto giorno di viaggio, è come una rosa, no, non è come sbarcare dall'aereo alla destinazione di vacanza. Quindi noi siamo costantemente tempestati di immagini di queste persone nella versione derelitta, nella versione drammatica, che questo modo di comunicare, diciamo, il racconto della migrazione è tutto concentrato solo sul momento del passaggio, no, il momento dell'attraversamento del Mediterraneo, oppure del... e priva queste persone di tutta la possibilità di, in realtà, mostrarsi al meglio, cioè con la propria storia, con quello che hanno, che portano. Alcune di queste interviste, per esempio, con grande semplicità, ci restituiscono chi sono queste persone. Ecco, questi due. Uno era un interprete e parlava perfettamente inglese, l'altro faceva l'autista in Siria e faceva l'autista però per una missione delle Nazioni Unite, quindi da anni lavorava avendo un lavoro non solo garantito, ma anche un buon lavoro e entrambi avevano i figli che andavano a scuola, cioè una vita normalissima, insomma, le nostre vite. Quello che noi perdiamo molto spesso nei racconti di migrazione è proprio la dimensione di normalità che per molte persone è stata sconvolta. Qua io mi sto riferendo principalmente, in questo caso, ai racconti di persone che vengono dalla Siria o dall'Afghanistan, quindi chi migra per motivi fondamentalmente di guerra e di conflitto, no? Però in questo caso, appunto, se avrete modo e voglia di affrontare questo viaggio con loro, vedrete che non c'è mai l'accento sul tono drammatico, non c'è questo volere a tutti i costi lavorare su un'empatia, se vogliamo, di stomaco, che attiva le nostre lacrime nel momento in cui la vediamo, ma poi spegne completamente la nostra capacità di pensare che cosa queste persone veramente hanno vissuto, stanno vivendo e potrebbero anche portare come contributo alla nostra società nel momento in cui le accogliamo, ok? Quindi secondo me questo tipo di registro è un registro che restituisce molta dignità proprio, ma anche è utile per noi, al di là dell'essere utile per raccontare loro, è utile perché a noi dice come potrebbe essere una società presente e futura con l'integrazione di persone che si portano questo tipo di storia, di esperienza, di competenze e via dicendo. Un altro bellissimo esempio, adesso vado su un piano completamente opposto, però mi serve per tirare fuori, vi faccio proprio degli spunti così e poi appunto volevo avere un po' di tempo per discuterne assieme, quindi questo è un esempio opposto, qui non siamo nella narrazione, non nella narrazione multimediale, non nell'uso del video, il video ovviamente per noi oggi è il medium diciamo più utilizzato perché è quello che più riesce ad attivare tutta una serie, ormai si sa anche a livello diciamo neuroscientifico, tutta una serie di reazioni, no? Noi reagiamo alle immagini in maniera molto più rapida di quanto reagiamo alle parole o alla lettura e quindi l'immagine ha una capacità di comunicare qualcosa che è veramente forse diciamo inarrivabile. Dopodiché però appunto possiamo usare altri strumenti, in questo caso il progetto Open Migration a me piace molto, l'hanno fatto dei colleghi, in parte giornalisti, in parte ricercatori. Una caratteristica di questo tipo di giornalismo diciamo più contemporaneo è che non si lavora da soli, non c'è un giornalista che fa una cosa, scrive il suo pezzo e la cosa finisce lì, non basta più la penna per fare il giornalista. Il giornalista lavora in un team assieme a chi usa lo strumento multimediale, chi ha la capacità di lavorare sui dati, chi ha una competenza informatica che è necessaria assolutamente, non si può più lavorare nel mondo del giornalismo senza avere una capacità anche di scrittura codice. Ovviamente non tutti ce l'abbiamo, io per esempio non scrivo assolutamente codice, non sono un'informatica, ma lavoro a stretto contatto costantemente con chi quella capacità ce l'ha, che al tempo stesso però deve avere la capacità di capire che quella competenza si deve declinare in questo particolare tipo di lavoro, cioè in un lavoro che è di tipo narrativo, non è il sito della banca che si occupa del problema della sicurezza quando devo andare a fare un bonifico online, sono due cose diverse. Allora open migration pesca i dati da siti ufficiali, in particolare dall'UNHCR e vedete il loro slogan è i dati ci permettono di sfidare gli stereotipi e influenzare la direzione dell'opinione e delle politiche pubbliche. Allora stamattina di nuovo Radio 3, perché succede ormai con una frequenza incredibile, l'argomento del programma Tutta la città ne parla, che è quello che va in onda metà mattina e si occupa di attualità e che nasce anche lì, immaginate, dalla sollecitazione degli ascoltatori a prima pagina, quindi gli ascoltatori di Radio 3 che chiamano durante la lettura la rassegna stampa, diciamo, segnalano i temi più caldi del momento, la redazione dice oggi c'è evidentemente un interesse su questo e mezz'ora dopo va in onda con un programma di un'ora di approfondimento su quel tema, quindi la sfida anche lì è quella ovviamente di riuscire a costruire una trasmissione in tempi molto rapidi, è vero che ci sono dei temi che ritornano e chiaramente anche oggi si tornava sulla questione del muro di Calais, della questione dei media britannici come hanno in qualche modo anche tacciato noi dei toni drammatici con cui guardiamo loro perché diciamo che loro sono degli egoisti e insomma c'è tutta una querelle che sta sul piano politico, mediatico, però la cosa interessante è l'uso di alcune parole che tornano, questo dell'invasione è una parola ricorrente, veramente tremenda. Allora, usando un sito come questo che ci riporta invece, a parte le analisi diciamo di tipo giornalistico, ma ci riporta proprio ai dati, i dati veri e propri, voi potete andare sulla dashboard che è sostanzialmente una schermata in cui trovate tutta una serie di dati già rappresentati e potete esplorarli, potete esplorarli in vari modi. Adesso per farvi un esempio, questo mi sembra molto bello, una rappresentazione dinamica dei flussi, vediamo se riusciamo a farla andare, dal 2014 a oggi. Ecco, guardate come visivamente si vede nel corso del 2014 e 2015 era il sud Italia, diciamo, la frontiera da prodo, poi guardate nel corso del 2015 come diventa importante la rotta che invece passa dalla Grecia a Turchia e Grecia, vedete. Ecco, la cosa importante è anche sempre dare la dimensione giusta, stiamo parlando per il 2015 di numeri fuori, norma, perché il 2015 è stato un anno di enorme movimento, però normalmente stiamo parlando di numeri che vanno dai 280 ai 300 mila persone all'anno, più o meno. Adesso vi sto dando un numero vago, però per dire che in un continente che non è fatto di pochi milioni di persone, ma è un continente ricco come l'Europa e grande, diciamo, come l'Europa, abbiamo il problema di definire invasione l'arrivo di 250-280 mila persone all'anno. E' questo il problema reale, cioè è la capacità di riportare, diciamo, nella giusta dimensione il dato. Poi, che uno possa dire, io personalmente, per esempio, non ne voglio nessuno, allora poi si discute su un altro piano, che può essere quello di che cosa, i piani toccati da tutti i relatori prima di me, su cui io non vado, perché voglio dire, non ho nessuna competenza storica, scientifica per andare ad affrontare quel livello lì. Però, ecco, la cosa per me invece importante come giornalista è riportare il discorso sul piano dei dati reali. Non siamo invasi. Fossero anche tutti solo sull'Italia, l'Italia fa 60 milioni di abitanti, 280 mila persone non sono un'invasione. Poi si può discutere di tutto. Ecco, questo sito ve lo segnalo perché è utilizzabile moltissimo in classe, proprio per vedere numeri, flussi, sono costantemente aggiornati, è in tempo reale, perché loro hanno costruito un sistema per cui pescano in modo aggiornato dal fonte database dell'UNHCR. Quindi vedete, gli arrivi via mare, guardate, 2016, 292 mila, 2015, 1 milione e 15 mila. Questi ovviamente sono i numeri ufficiali, i numeri di quelli che arrivano, vengono registrati, i vari sbarchi che vediamo e via dicendo. C'è un'attenzione dentro a questo sito a fare una forte distinzione, per esempio, tra le richieste di asilo e invece i numeri, diciamo, di migrazione determinati da cause più generali, che sono anche quelle di tipo economico, le provenienze. Quindi potete utilizzarlo come, qui potete sbizzarrirvi, credo che ci sia veramente materiale per giorni e giorni di approfondimento, prima parlavo con due vostre colleghe, qui in effetti non si va in un'ora, qui questo è proprio una cosa che richiede molto tempo, però di volta in volta uno può dire, per me è interessante mettere a confronto questo dato, e su questo, casomai, costruire un discorso. Quindi Open Migration fa questo, lo fa anche per far vedere, per esempio, i flussi tra paese e paese, quindi quali sono i flussi, vedete, chi accoglie di più, di meno, le destinazioni, il paese di origine, il paese di arrivo, quindi si può anche capire veramente come si muovono le persone. Questo è, credo, un sito che ha dato veramente molto lavoro anche a noi giornalisti, nel senso che noi stessi possiamo usarlo come fonte per poi approfondire tutta una serie di tematiche, però secondo me questo è uno di quei casi cui invece questo ha una grande funzione pubblica, per chi vuole utilizzare un sito di questo tipo per appunto imbastire un discorso sui dati delle migrazioni. È chiaro che quando parliamo di dati, qua non ci sono tanto storie, no? Non ci sono le storie delle persone, questo ha questo focus, tanto che, per esempio, mia cara amica che è antropologa, si occupa proprio di antropologia delle migrazioni, lei mi dice, però la critica che io faccio a questo tipo di lavoro è che poi si limita ai dati, e allora è come dire, se i dati fossero tremendi, allora cosa facciamo? Diciamo che, esatto, diciamo che se il dato veramente ci spaventa, allora poi è giusto essere spaventati. Non è l'obiettivo di questo sito, questo sito dice, al momento noi ci limitiamo a dirvi, in questa situazione, questo è quello che sta succedendo. Ora, sono stata recentemente, per motivi sempre di lavoro, in Sudafrica a fine giugno, e mi raccontava una collega giornalista che, per esempio, in Sudafrica, che non fa certo, voglio dire, 280 milioni di persone, ma credo sia no, se non ricordo il numero esatto, ma insomma è un paese molto più piccolo dell'Italia come popolazione, negli ultimi anni ha accolto dai 4 ai 5 milioni di persone che vengono dallo Zimbabwe e da altri paesi africani. Questo per dire lì sì, la dimensione è di altro genere. Quando lei mi ha detto i dati, dico, ma è così, me li ha fatti proprio vedere, perché mi sembrava, appunto, incredibile che noi stiamo a fare tutto un discorso su scala europea con numeri molto diversi e poi non guardiamo al fatto che le migrazioni avvengono ovviamente altrove e le proporzioni sono di altro genere. Cambio completamente esempio. Questo è la Repubblica Popolare di Bolzano, non so se qualcuno l'ha visto, è un lavoro che ha fatto un collega, lui è un ricercatore dell'Università di Bolzano, ed è uno che si occupa di visual journalism, quindi di tutte quelle forme di visualizzazione interattiva, appunto, diciamo, migliorativa del giornalismo, e ha provato a sperimentare usando un caso locale. A Bolzano pare che anche lì la percezione, che è molto diffusa in città, ovviamente amplificata da alcuni media locali, è che ci sia un'invasione di cinesi. Cioè, negli ultimi 20-30 anni, sappiamo che è una delle prime comunità che è arrivata anche in Italia, ci sono cinesi ovunque e tutti percepiscono questa cosa come, appunto, ancora una volta l'invasione. Ora, i cinesi a Bolzano sono lo 0,6% della popolazione. E il lavoro che ha fatto questo collega è molto bello, lo potete scorrere, vedrete che è un lavoro che mescola, quindi tiene insieme le due dimensioni che dicevo, prima a parte che è in italiano e in tedesco, perché giustamente si rivolge alle due comunità linguistiche di quella città, e racconta sia con dati, quindi fa vedere, per esempio, il flusso migratorio, il fatto che scopriamo che, per esempio, la comunità cinese di Bolzano viene tutta da uno stesso angolo della Cina, cosa che, peraltro, insomma, avrete sentito in questi giorni molto comune, no? Di solito ci si sposta e si segue una certa comunità. Però, ecco, dove sono andati? Sono andati in questi due luoghi dell'Italia, principalmente, proprio da quell'angolo lì. E poi, ecco, l'inizio, quando sono arrivati i primi anni, vedete, ci sono tutta una serie di dati che appaiono, quindi questa è una forma di visualizzazione interattiva, non dinamica come quella che abbiamo visto prima, cioè questo è un lavoro fatto e finito, non è che venga aggiornato col dato reale, però già così ci dice molto relativamente alla percezione che abbiamo, no? Nel complesso, il lavoro di due anni fa, credo, nel complesso in Italia abbiamo circa l'1,9% di popolazione cinese, quindi anche in questo caso la percezione di invasione è probabilmente decisamente, sì, è sovrastimata, eccessiva, e a Bolzano addirittura, insomma, siamo ben sotto la media e sono lo 0,6%. C'è poi l'uso, anche in questo caso, vedete, sempre del dato, del dato nel corso del tempo, c'è poi anche qui un uso invece del video, con tutta una serie di interviste molto belle, fatte in primo piano, quindi dove la persona viene proprio messa al centro del racconto, di queste storie di nuovi bolzanini, che alcuni emigrati direttamente dalla Cina a Bolzano, o altri nati a Bolzano, c'è un ragazzo che parla con un accento, come dire, locale fortissimo e raccontano come sono arrivati, cosa hanno fatto, quale, ecco, addirittura, vedete, per qualcuno il focus è raccontare questo rapporto tra loro essere cinesi di prima, seconda o qualche volta, insomma, terza generazione, e l'essere italiani, perché naturalmente, sicuramente la seconda, poi la terza generazione, deve tenere insieme queste due, dimensioni, no? E quindi, cosa si tengono della cultura tradizionale, cosa invece accettano o cercano della cultura, del posto che li ha accolti. Ecco, ci sono tutte queste interviste, quindi molto, questa ragazza qui, per esempio, ha una storia incredibile, questa ragazza qui è arrivata a Bolzano già grande, però era talmente brava e motivata che diventa la prima del liceo e addirittura poi si iscrive, appunto, a Economia e Commercio a Trento ed è una studentessa modello. Allora, adesso non è che voglio, appunto, anche esagerare col mettere l'accento su una storia così, però sono storie che raramente emergono nella narrazione comune, nella narrazione quotidiana dei media, no? raramente si ha modo di raccontare, effettivamente, anche le piccole storie di singole persone che hanno fatto un percorso o un altro e quindi un po' mettiamo tutto in un calderone anche di termini molto banali spesso. Ecco, poi ci sono le aziende, qui continuiamo con i dati, vedete, quali sono le aziende gestite dai cinesi e questo invece è un dato interessante perché evidentemente c'è un dato che anche a Bologna stiamo cominciando ad avere che è quello della gestione dei bar, cioè rispetto ad altre attività dove le percentuali sono, diciamo, assolutamente normali c'è invece questo picco di gestione dei bar e questo è ovviamente uno spunto di approfondimento e di ragionamento su come mai i bar e i ristoranti, i ristoranti è un po' diverso, ma insomma i bar in particolare siano così popolari. Ecco, questa è la mappa interattiva che fa vedere come nella città si sono articolati i vari negozi e ristoranti di proprietà cinese. Allora, questo lavoro qui ha vinto molti premi a livello internazionale, correttamente perché in effetti è una storia locale, una storia piccola, non è che, e tra l'altro diciamo Bolzano sicuramente è molto importante per Bolzano, ma non è una città così rappresentativa dell'Italia, però il modo in cui questo lavoro è stato costruito, mettendo insieme queste componenti, i dati, ma anche le storie delle persone, e poi una bella visualizzazione, un modo molto bello di vederlo, tra l'altro questo funziona molto bene anche su mobile, quindi su telefono, e quindi per esempio a un pubblico più giovane sicuramente può arrivare attraverso quel canale, sapete ormai la fruizione dell'informazione è oltre il 50% su mobile, quasi più nessuno diciamo si ferma al computer, quindi se uno produce un oggetto interattivo, ricco di multimedia, eccetera, deve per forza di cose pensare prima al mobile e poi alla versione desktop, cioè se dobbiamo preferire diciamo un'ottimizzazione, dobbiamo ragionare prima su come si può vedere su telefono. Non sto a dirvi quanto questo significhi, dover prendere in considerazione che uno deve poter vedere su un telefono piccolo così o l'altro un po' più grande, ma insomma, no? Non posso mettere per esempio tante parole, tanti testi, non posso avere grafici leggibili, per quello diventa molto importante la forma visuale, la forma grafica. Un altro lavoro... come sono quei tempi? Scusate perché volevo proprio lasciare... sì, va bene. Allora, vi faccio vedere un altro paio di lavori e poi apriamo alla discussione. Un lavoro che, anche questo italiano, fatto da un consorzio di giornalisti, non solo italiani, ma diciamo insomma anche italiani, sono tra l'altro un collega che sta qui a Bologna, hanno messo in piedi un consorzio di giornalisti a livello europeo, sono stati una decina su diversi paesi europei, l'idea nasce dall'Italia, viene finanziata, noi ormai quando vogliamo fare un lavoro molto approfondito a livello giornalistico, dobbiamo riferirci, come fanno i ricercatori, a fonti di finanziamento che non sono i media stessi, un giornale non ti paga per una cosa così che ci metti mesi a fare. Quindi cerchiamo delle grant, delle borse di studio, delle forme di finanziamento che vengono dall'esterno. Allora ci sono delle, per fortuna delle fondazioni europee che finanziano prettamente lavori di tipo giornalistico, e questa è una di quelle, cioè non un migrant file, ma questo lavoro è stato finanziato con questa fondazione, e da questa fondazione, e in questo caso i dati tra l'altro nascono diversamente da Open Migration, che è di fonte ufficiale, qui la storia nasce da dati osservati da un blogger siciliano, che forse avrete sentito nominare in tutti questi anni in cui parliamo di migrazione, si chiama Daniele Del Grande, aveva un blog che si chiama Fortress Europe, quindi Fortezza Europa, e semplicemente il lavoro che questa persona ha fatto negli anni era cominciare a raccogliere tutte le notizie che riusciva ad avere dai giornali locali, dalle associazioni, quindi tutto quello che riusciva a reperire per cercare di dare un nome e una storia alle persone che morivano attraversando il Mediterraneo. Quindi per cercare di restituire una dimensione di numero, ma anche di storia, di nome e cognome alle persone che partono per il viaggio di migrazione. Quindi questo lavoro è stato pubblicato nel 2014 e ha vinto, si può vedere, uno dei grandi premi europei dati al giornalismo dei dati, al Data Journalism Award, perché dimostra, intanto anche qui, ci fa capire esattamente dove c'è il problema della migrazione, quali sono i punti di partenza e i punti di arrivo, e poi dimostra che nell'arco di una precisa dimensione temporale c'è un'intensificazione di naufragi e di morti, ed è ovviamente perfettamente associabile alla regolamentazione dei flussi migratori, cioè o meglio, tutte le politiche che a un certo punto decidono come gestire o meno l'arrivo dei migranti hanno un impatto, ovviamente, sui rischi che i migranti corrono quando decidono di prendere un barcone e attraversare il Mediterraneo. Ora non so, e immagino che questo corso vi abbia dato molte risposte, però non so quanto voi sapeste prima dell'aspetto, per esempio, legislativo, perché è una di quelle cose di cui si parla sempre un po' poco, mia mamma l'anno scorso mi dice, non riesco a capire, Elisabetta, ma questi spendono 5.000, 6.000 euro per prendere il barcone, per i traffici, perché non arrivano in aereo? E io dico, scusa, ma non possono arrivare in aereo, non ti è mai venuto in mente che per legge, se loro arrivano a un aeroporto, vengono presi e rimessi sullo stesso volo in direzione opposta, perché la legge non permette l'arrivo sul territorio, se non dentro tutta una serie di dinamiche ben precise, quindi con documenti, eccetera, eccetera. E lei mi dice, sai che non mi ero mai resa conto del fatto che la legge che gestisce, diciamo, il modo, la legalità dell'essere una migrante in Italia avesse un effetto sulla scelta di come questa persona deve viaggiare. Dico, eh, infatti, sono due elementi che se tu non metti insieme non riesci mai a correlare, ma la correlazione qui ci vuole, perché gli impianti di tipo regolativo, così come gli accordi di tipo politico, hanno degli effetti enormi sulla vita delle persone. Allora, dati come questo lo dimostrano molto velocemente, perché, per esempio, durante l'operazione Mare Nostrum ci sono stati molti salvataggi e c'è stato un enorme numero di persone che è stata salvata in mare attivamente dalla Marina Militare Italiana, cosa che con la fine dell'operazione Mare Nostrum non è più successa. Quindi queste cose, diciamo, hanno un impatto reale e concreto anche nei termini dei numeri. Allora, questo lavoro lo racconta questo, ma racconta un'altra cosa. Fatta la prima dimostrazione, in questo caso, scusate, volevo farvi vedere, che ho riflesso e faccio un po' fatica, ma i dati qui sono tutti disponibili, cioè loro hanno fatto il pezzo, il racconto, c'è la storia e tutto, però c'è anche un link, lo trovate dentro al testo, per andare a vedere proprio la tabella dei dati. Quindi potete verificare come li hanno raccolti le varie fonti, partono da quello che vi ho detto, è una database informale, sul quale però poi costruiscono, integrandolo con i dati di Frontex, con i dati ufficiali. E lì nasce un'altra storia che è, ok, ma allora, tutte queste persone spendono milioni complessivamente di euro per cercare di arrivare in Europa, quanto spende l'Europa per cercare di tenerli fuori? E quindi inizia una seconda tranche di lavoro, che è questo, The Money Trace, questo è un lavoro molto bello, che vi consiglio appunto di vedere se vi interessa questo lato, perché anche questo è una pista, diciamo così, di approfondimento del tema importante, perché dimostra, ecco qua, che l'Europa spende milioni di euro per finanziare aziende che mettano a punto sistemi di sorveglianza, per finanziare sistemi di ricerca, per finanziare sistemi di polizia, per finanziare i centri di accoglienza, di gestione e via dicendo. La lista è molto lunga, questi, vedete, sono i nodi, i nodi dei vari programmi di finanziamento e scoprirete che tutto sommato si va quasi in pari. Milioni spendono loro per venire e milioni spendiamo noi per tenerli fuori. Uno spreco di risorse veramente monumentale, soprattutto negli anni della crisi economica, forse peggiore, diciamo, che ci è stato dato di vivere in decadi recenti. Va bene. Molto rapidamente, solo per menzionarvi che cosa troverete nella lista, poi vorrei appunto avere qualche minuto di dialogo, questo è un documentario fatto da una collega americana che sceglie la formula del docu-fiction, cioè with Diana Cristal. Allora, qui si tratta di un punto di partenza, di una inchiesta, scusate, giudiziaria vera e propria, trovano nel deserto, nel deserto tra Messico e Stati Uniti, dove muoiono anche lì milioni di persone, perché noi tendiamo sempre a guardare i nostri flussi, ma ovviamente le migrazioni ci sono ovunque e sapete che, no, forse non lo sapete, ma insomma, l'arrivo negli Stati Uniti da parte del Sud America, diciamo, ci sono assai di percorsi molto complessi, comunque il grosso, diciamo, delle persone che arrivano, arrivano con questi treni sopra il treno, cercano di passare il confine, sono treni merci, poi comunque devono attraversare il deserto più o meno a piedi, hanno questi che chiamano coyotes, che sono l'equivalente per certi aspetti dei nostri scafisti, insomma, la storia non è molto diversa e muoiono milioni di persone. Allora viene trovato uno di tanti, un corpo, a cui non si riesce a dare un nome, che ha un tatuaggio con scritto Daiani Cristal, e da lì parte l'inchiesta che la giornalista segue man mano a fianco alle autorità americane, ma anche a un'associazione che cerca appunto di dare di nuovo un nome e una faccia a queste persone, perché poi forse la cosa che meno anche qui si racconta mediaticamente è mio figlio parte e io non so più niente, cioè io passo i successivi 20-30 anni della mia vita sembrato di vivere senza avere minimamente notizia su che cosa sia successo a questa persona. E questo è il tentativo di molte associazioni di provare a ricostruire per dare quantomeno una pace alle persone che a casa aspettano notizie. Questo film è molto bello, molto anche qui attento a ricostruire quasi scientificamente diversi passaggi. Non vi svelo insomma il racconto per chi lo vuole vedere, ovviamente c'è una certa suspense. L'attore che vedete qui, probabilmente qualcuno l'ha riconosciuto, è Gabriel Garcia Bernal, che ha deciso di dare volontario, cioè a titolo volontario si è prestato a fare la parte diciamo narrativa, quindi è un attore dentro la parte fiction di questa docu fiction, per ricostruire appunto i percorsi che i messicani, i guatemaltechi e via dicendo fanno per arrivare negli Stati Uniti. Quindi è una formula molto diversa, anche questa punta molto ovviamente sull'empatia, però al tempo stesso molto precisa nei dati e nel racconto. Lavoro completamente diverso, questo non è un lavoro di tipo mediatico, si chiama dopo l'approdo, qui c'è un lavoro di ricerca fatto da un gruppo di antropologi, Barbara Pinelli, Luca Ciabarri, Università di Milano Bicocca, assieme a dei fotografi. Qui l'idea è di ragionare su quello che succede non durante il viaggio, ma dopo il viaggio, cioè quando la persona è arrivata, quando sta in un centro per richiedenti asilo per due anni, perché la legge prevede che siano sei mesi, ma di fatto ci vogliono anche due anni, non può lavorare, non può fare nulla, quando comunque è in attesa di capire dove potrà eventualmente andare e ha bisogno comunque di costruirsi un pezzo di vita. Quindi dopo l'approdo è un lavoro fotografico, vedrete, probabilmente verrà anche a Bologna, sta girando questa mostra di fotografie molto belle, girate, fatte quasi tutte in Sicilia, nei centri per richiedenti asilo, e cosiddetti cara, e però anche di narrazioni, di racconti, fatta con l'attenzione ovviamente di chi fa ricerca, però è un lavoro mirato anche al pubblico, non diciamo ai ricercatori, è proprio l'idea quella di riuscire a raccontare cosa accade quando arrivano, dopo che arrivano da noi, che tipo di vite si ricostruiscono. Allora, volevo solo, lo cito così, l'ultimo esempio dei displaced, questo è il New York Times che sta usando un sistema particolare che si chiama VR, virtual reality, o video a 360, questo potete andare a vederlo online, è una forma di riprese a 360, quindi il video non è più focalizzato su un punto, ma voi siete immersi nel video, lo potete vedere sia con telefono, cioè ci sono delle applicazioni, il New York Times ha la sua applicazione gratuita per vedere questo oggetto, per cui quando voi la guardate, vi potete spostare così letteralmente dentro lo spazio, quindi siete in questo caso in un campo rifugiati, in tre diversi campi rifugiati, sono tre storie, e vi potete muovere nel campo rifugiati, quindi avete questa forma di immersività che a sua volta, diciamo, è molto potente per raccontare qual è la vita nel campo rifugiati, oppure potete usare i cardboard, che sono quei visori di cartone, c'è Google Cardboard, ma ce ne sono anche tanti altri, che consentono appunto una visione a 360 gradi. Questo è un esperimento che si sta facendo nell'ultimo anno e mezzo, che sta avendo molto successo, soprattutto per raccontare quei luoghi dove noi non entriamo, i campi rifugiati, le prigioni, i luoghi. Google Cardboard, sono i visori, lo trovate comunque, se andate dove c'è dei displays, vi dà tutte le istruzioni anche per utilizzare questo visore. Tra l'altro il visore in sé si può costruire con una spesa, credo, di tre euro, perché è tutto in cartone, quindi è una cosa molto alla mano. Mi fermo, ci sono domande, mi spiace perché il tempo è ovviamente tirato, però ecco, se ci sono domande o commenti, prego. Pochissimo. È uno dei fenomeni meno affrontati, a livello mediatico di sicuro. Credo ci siano da un punto di vista delle associazioni che se ne occupano, ma mediaticamente non ho ancora visto nulla, pochissimo. Credo sia uno dei temi che comunque, cioè so di colleghi che lo seguono, però su cose di questo tipo non ho ancora visto niente. Grazie a tutti.